Sicurezza e solidarietà è quanto propone per la risoluzione delle problematiche inerenti all'immigrazione incontrollata il candidato consigliere al comune di Eboli con la lista Idea Futuro con Antonio Cuomo, candidato sindaco, Michele Cuozzo, avvocato cassazionista. L'alto numero di cittadini stranieri che vivono stabilmente sul territorio, spiega Cuozzo, impone da parte di chi è chiamato ad amministrare la città di Eboli l'urgente adozione di un piano che sia capace di coniugare solidarietà ed accoglienza senza tralasciare la sicurezza della zona. In questo contesto, prosegue il candidato, è fondamentale il coinvolgimento di associazioni di volontariato e associazioni cattoliche e l'attivazione di politiche di integrazione che portino al rispetto delle regole che devono rappresentare un obiettivo primario. Solo in tal modo la domanda di mano d'opera, la richiesta di sicurezza ed il valore della solidarietà possono coniugarsi in una politica attenta e capace di far diventare Eboli città d'esempio di tutto il nostro paese.